Una situazione che le nostre imprese stanno vivendo con preoccupazione, con incertezza e con un relativo calo delle proprie attività. Questo dovuto a elementi esterni come gli eventi bellici che sono assolutamente imprevedibili e quindi per un imprenditore incertezza pura, ma anche eventi un po' più strutturali e faccio riferimento ancora alla difficoltà a reperire materie prime a costi normali, la difficoltà che abbiamo per quello che riguarda l'inflazione, che non è scesa così velocemente come era salita e anche per ancora il costo del denaro che è molto alto, la difficoltà soprattutto per le aziende di accedere al credito. Queste sono tutte le situazioni che hanno reso il momento delicato e difficile. Però tutto questo purtroppo si è riverberato nei dati dell'export che per la prima volta nella nostra regione dopo tanti anni di positività accusano un leggero rallentamento e questo ha generato un'incertezza generale che cerchiamo di ovviamente tamponare e di anche così limitare con la possibilità di trovare nuovi mercati. Lo abbiamo fatto anche come Camera di Commercio attraverso Tecne, l'azienda speciale che si occupa all'interno della Camera di Commercio di mobile e arredamento, ma anche di meccanica e ultimamente siamo reduci da un viaggio molto importante a Singapore in cui abbiamo presentato una collettiva di aziende marchigiane del design e delle complementi di arredo. Ovviamente di altissimo livello hanno avuto un ottimo successo i nostri imprenditori, tanto che ci hanno chiesto per il 2025 di prorogare questa opportunità e di ampliarla sempre di più. Considerate che Singapore è uno straordinario hub in Asia perché fa parte di ASEAN, un'area di libero mercato che comprende potenzialmente 4,4 miliardi di clienti. Quindi abbiamo bisogno di ridisegnare anche l'economia rispetto alle situazioni che la geopolitica ci presenta e come associazione di categoria, come Camera di Commercio siamo pronti a farlo. C'è un comparto produttivo che vi preoccupa più di altri e se ci sono invece alcuni che mostrano dati sorprendentemente incoraggianti? Sì, facciamo due casi. Il caso che ci preoccupa un po' è la meccanica, che negli ultimi anni è sempre stato il settore di riferimento trainante dell'economia della nostra regione. In questo momento sta avendo una flessione, un calo, soprattutto rispetto al contoterzismo molto legato al mercato tedesco, che è in gravi difficoltà, e quindi il nostro contoterzismo molto specializzato, smart, digitalizzato, all'altezza di servire un paese importante nella meccanica come la Germania, sta ovviamente un po' rallentando. In contrapposizione abbiamo dati molto convincenti e soddisfacenti per quello che riguarda la nautica, che nella nostra regione è diventato un settore di riferimento importante e stabilmente in crescita. Quindi la speranza è che se uno degli elementi negativi che hanno determinato questa incertezza potesse nel prossimo futuro migliorare, i nostri imprenditori saranno ancora protagonisti.